Progettazione e arredamenti per giardino, ma non solo, anche addobi floreali per la chiesa o per la sala. Parliamo di arredo verde. Sì, grazie. Parliamo di arredo verde e noi ci troviamo sulla strada statale 114 a Santa Margherita Messina. Ci occupiamo di addobi floreali, quindi di allestimenti e coreografie, quindi chiaramente per il giorno più bello della vita di due persone, quindi il giorno del matrimonio. Ci occupiamo chiaramente del bucchetto, gli allestimenti della chiesa, della sala, la casa e tutto quello dove occorre il fiore. Allora, il fiore preferito dagli sposi? Ma la rosa sicuramente è il fiore classico per eccellenza, anche se ultimamente si cerca di ossare di più, di aggiungere qualcosa di diverso e anche nel mio lavoro si cerca sempre di aggiornare, di proporre chiaramente sia fiori diversi che colori e forme diverse. Cosa importante è che lei rinnova la sua presenza quest'anno perché era già stata presente per noi sposi. Sì, 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 rinnovo la presenza, ci siamo trovati bene, si dà un contributo per andare chiaramente, per portare avanti il nostro mestiere, ritorno a ripetere, ci troviamo a Santa Margherita, per qualsiasi cosa venite a trovarci, per qualsiasi occasione, ecco, siamo lì a disposizione. Grazie davvero, a Redo Verde! Grazie a tutti!